Con un parterre di auto storiche senza precedenti, prenderà il via giovedì 30 giugno da Piazza Duomo di Messina, la dodicesima edizione del Trofeo Internazionale del Gattopardo. Dopo lo spettacolo del campanile della Cattedrale, che polarizza l'attenzione dei partecipanti, la maggior parte dei quali, provenienti dall'estero e da diverse regioni del centro e nord Italia, la colonna raggiungerà l'arcipelago eoliano, metambita dal turismo internazionale, per dare vita a quattro giorni intensi tra le bellezze naturali e la cultura dei luoghi proclamati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Particolarmente atteso l'Oscar d'Eleganza, Art and Design Award, che evidenzia attraverso le varie categorie i principali momenti dell'evoluzione stilistica dell'automobile. Particolarmente attesi modelli d'auto appartenenti a marchi nobili come Rolls Royce, Jaguar, Ferrari, Lancia, MG, Alfa Romeo, Fiat, Maserati. Oltre ad altrettanti esemplari di case automobilistiche meno note alla storia della mobilità, ma di paritetica importanza come Wallesley, Mulliner Park World, Siata, Giordano, Maestri ed altre ancora. Tra le auto più datate, degna di nota, è l'Austin 7 Sport, la cui data di progettazione festeggia nel 2022 il ragguardevole traguardo dei 100 anni di storia.